ciao ciao dal canale Nikita ragazzi oggi noi al nostro canale abbiamo super ospite vip scienziato Einstein che ha inventato questo bellissimo gioco Schifido che adora la mamma e ci racconta di sue invenzioni bellissime e le chiediamo un po di cose di questi giochi creative sono molto profumatissimi i micro perro e poi nuovo tipo questo era il vecchio tipo perle questo è fluffy slime perle invece questi sono nuove non sono molto percolosi se li mangi addirittura allora si può mangiare no meglio di no se no li puoi ammalare ma che differenza queste perle queste anche perle ma questo qua è un micro perle allora vediamo differenza va bene quelle lì sono perle piccole queste qua sono molto più piccole apriamo allora questo qua queste erano perle questo qua quello lì si allunga di più capito se lo metti cinque minuti prima 15 minuti al sole questo qua diventa dicono che diventa più morbido dico io allora vediamo la differenza questo qua c'è anche una mia foto dentro e ho visto ho visto c'è la foto da per tutto sulla rivista da per tutto è molto famoso ma signor Einstein perché così tanti tipi di schifido glitter glitter profumati glitter me sono già confuso con tutti questi schifido eh sono un genio ah così tanti infezioni per questo lei non riesce a fermarsi inventa 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 ci dici segreto del prossimo schifido sì allora il prossimo schifido è una specie di plastilina che è da modellare ci sono delle specie di occhi le bocche ma cosa sarà ancora perle glitter no molto più liscio più liscio quando esce nuovo è già uscito è già uscito è già in edicola io non ho visto ma non è arrivato solo questo ho sbagliato mi c'è la formula ma come si gioca mi spiega per favore bisogna fare così è un antistress antistress ma mi sembra mi sono incalata tutta non so come si gioca io sì sembra un pasto della pizza ma riesco a toglierlo adesso non riesci a togliere il dottor Einstein so che ho putto un po' ho malato proprio la formula dottor Einstein cosa propone per toglierlo dalle mani un coltello coltello tagliarsi la mano e basta signor Einstein ho preparato una sorpresa perché lei dice che è molto profumato il suo schifido vediamo se lì riesce a indivinare il gusto della sua creatura vediamo lei deve chiudere le occhi uno due tre le vanno usare scatate mmm semiglia ma no si è veramente muffin ma solo lei mi sa riesce a indivinare come premio le do un muffin e vediamo se il profumo è uguale preferisco questa provate no 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 si può questo è mio tutte e due allora quale è più buono tutte e due profumo buono allora di schifido io preferisco questa io tutti e due io preferisco schifido allora non io non mi amato il profumo non mi interessa però il gusto è buono con l'olino non neanche un gusto ma la mia nina nana è quanto ero piccolo che patata molle allora la seconda prova chiude le occhi signore Einstein allora se le indivina le do quello che è quello che è meglio non tacarla che gusto è che gusto è oh non so ah cacca famiglia veramente un po' colore allora l'ho aperto oggi no che odore tanta marcia famiglia un po' terra allora lei non ha indivinato lo so cioccoletto no perso quattro prove ho detto che cioccolato eh non è cioccolato è il biscotto biscotto se non è cioccolato è inventato vediamo come è questo questo qua no 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 signor Einstein guarda cioccolto niente ma così non si fa signor Einstein il suo gusto vediamo se il signor Einstein indivina sua creazione chiude le occhi signor vai di indivinare il primo colpo chiude le occhi signor Einstein vediamo annusa prova gelato no quasi gelato quasi si papaplasmon famiglia papaplasmon si famiglia anche milkshake milkshake ma solo lei potrebbe indivinare perchè veramente c'è un po' di vaniglia allora lei ha meritato sopra per mille cacchine prego milkshake salutiamolo un attimo facciamo la cara chi si allunga di più dei due ha 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 si allunga si allunga ma si appiccica ancora di più aiuto non ha la braccia abbastanza lunga ciao ciao da canale di Nikita mi dite like e iscrivetevi a tutti i canali di Nikita no 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 Grazie a tutti.